Il parroco di San Paolo, Don Pino Cagliazzo, è stato nominato da Papa Francesco Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Matera, Irsina. La notizia è stata data questa mattina alle 12 nella Basilica Cattedrale di Crotone, dal nostro Arcivescovo Monsignor Graziani alla presenza del Clero dei Fedeli e anche di Monsignor Luigi Cantafora. È il quinto Vescovo che il Papa fa dal Clero di Crotone, quindi una notizia bella, è dal nostro punto di vista un segno di speranza per Crotone, perché vuol dire che c'è molto da promuovere da Crotone. Eccolo qua Don Pino, Vescovo di Matera, come ha accolto questa nomina? Ecco, ve l'ho accolta con molta gioia da una parte, non mi aspettavo certamente una città così importante, una città che è la città della cultura a livello mondiale fra qualche anno, però chiaramente si accetta obbedendo e obbedendo anche con gioia, perché se una cosa non la si fa con gioia è meglio non farla. E allora ho detto sì al Santo Padre e ci vado con entusiasmo. Ma qualcosa a Crotone la lascia? Beh, c'è tutta la mia vita a Crotone. Io ho amato e amerò sempre questa città. Ho lavorato in questa città, quindi nella comunità parrocchiale, non soltanto di San Paolo, alla quale sono fortemente legato, però per me Crotone è Crotone. A Matera l'attendono, eh? È meglio, ho detto di aspettare.